lo fanno lo fanno lo fanno e lo fanno lo fanno hai visto? mettiamo la cinta perché sennò qualcuno dice ma la cinta non te la metti e allora mettiamo se sta cinta poi io me la metto e che volte magari me la scordo let's go allora tanto se camminiamo verso il campeggio facciamo cost cost perché abbiamo fatto che cazzo l'abbiamo fatto? 10 e 40 se arrivediamo al campeggio bello stai a passeggio oh scusate in ritardo dai ciao ciao Giovanna perché la ragazza lì ho detto che tu hai organizzato l'altra volta allora allora Rudy stava già a passeggio vediamo un po' se il zio Luciano ci è arrivato o si è fermato a fare un Brexit ah stavamo proprio davanti al campeggio me l'ho perso si ho messo pure la freccia no me l'ho perso che il zio Luciano si è fermato su paracula oh 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 cavallo oh oh cavallo oh 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 cavallo oh oh cavallo oh oh cavallo oh oh cavallo oh oh eh che faccio? ho un documento al primo parcheggio eh dai vai tento all'arbero lui no veramente manca il secondo è proprio il primo perché il secondo sono stato io vai perfetto ma aspetta ma da dove? mi hai detto vabbè se vedete marca peggio aspetta ma aspetta oh che mi lascia a perdere l'arcol ciao capito? l'arcol lascio l'amica sua che stava a Borsana poi sei andata a Gratoli no stava qua a Baventano infatti io sono convinto che stava a Borsina no ma è stava a Baventano ci sono andata a trovare ma è un po' che c'è qua famo la foto la 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 aspetta che devo tornare lucido allora lui fa la foto a Nerone l'amaro di Roma e mo se famo stamaretto e ringraziamo io mi ricordo come ti chiami tu che mi ha regalato che io che i nomi bella zì è buonissimo stamaretto tu un po' capì ma ci siamo adesso ci siamo scarlati la sera dalla montagna che faceva freddo gira venite gente venite quindi a nessuno comprate la bancarella di bella zì che lo fanno lo fanno venite alla bancarella di bella zì comprate acquistate che la cassa piagna gli avevamo una lira devo tornare a casa aiutatemi aiutatemi vediamo chi ha fatto acquisti guarda bravi una X sola una X sola costa un pochettino di più mi devi dare la differenza si riesce a risolvere sicuramente con un piccolo conguaglio a mio favore ho finito le magliette non conguagliamo cazzo buongiorno fra che fai? allestendo il mercatino bene bene bravi L L L L L L che lo fanno L che lo fanno ma che cazzo ne so io provatevela ma che ne so qui al banco me l'ha smontato non c'è non c'è non lo fanno non lo fanno ma che cazzo stanno aiuto sta a sudare aiutami molto ansiosa dai fai il venditore ambulante ma quale è il venditore ambulante fa un bucchio di culo io aiutate bella zì che è un XL scusa Simo ma le M esistono qua? esatto no mi ho fatto le L io non ho calcolato i fisici troppo piccoletti grazie non ci hai calcolato no tu guardi solo gli uomini le donne no come funziona? no veramente io guardo solo le donne non guardo l'uomini il problema è questo e poi cerco di capire quanto sono grossi i marini perché poi magari poi tocca a venta capito? un giro pure all'altro mercatino è certo che hai fatto zì? hai il bernoccolo? che te sta bevendo Nerone? Mimmo bella zì spiegaci un po' che hai fatto stamattina stamattina per ripigliarmi mi sono andato a buttare sotto la doccia eh ho fatto almeno un quarto di doccia ma non mi svegliavo uguale non te svegliavi uguale? mi sono buttato sotto l'acqua fredda direttamente ah ti capito ma perché questo? è perché guarda qua che c'è stato i residui di ieri sera mamma mia che botta non c'è più una linea no guarda io mi ricordo solo che ho mischiato qua l'arancino con quella cioccolata non ce l'ho capito un cazzo la pizza la pizza la cioccolata mamma mia però stanno le banane sì le bucce sono pari le banane o no? no ma sai che qualcuno manca manca pure la buccia questo è il problema capito? si cominciano a svegliare un po' tutti come sono i nove? otto e mezzo otto e mezzo nove il sole è alta visto che ieri si troppo ho detto ho parlato con Pietro mi ha garantito sabato e domenica il tempo buono la mia zingarella che non sa che cosa mettersi addosso immagina guarda non ci pensare guarda che bel regalo che ho fatto alla mia piccola metà la mia città ecco vabbè sentiti tutta a posta tutta a posta il materiale lo scottorazzo a Romina vai ok ha giudicato bellissima sei bellissima bella Romina che bella quando manca amati un bello prezioso tu aspezzavo qualcosa di meglio finca dentro ho tanto ho mai che mi aspetto ti potete spiegare un po' di più me spina tanto la porta va già fuori dai ti è grazie dagli un bacetto è meraviglioso mi tocca dico no sia Luciano è pericoloso è armato no non ti lo pippa è una merda quello ma poi caro si lo vedi che non so solo io piccbubble si ma non è un piccbubble va dentro la cassetta del cesso dico scusa fai le bolle si da gazzasai è arrivato è arrivato Santrinova assolatore io l'hai fatta arrivare attenti armato ma che cazzo si è andata per le fratte quanto si è andata ma l'hai fatta arrivare con la mano alzata cazzo ieri sembrava arrivare a Transcirbania mi ricordo cazzo è a Dracula è il posto al campeggio di Dracula cazzo cazzo ma vattene a fai culo scenditi a pagare sbrigate che io ho i soldi per tornare a casa se mi comprate le magliette vai vai no dico famo un primo piano al cuoco anche perché oltre che è bravissimo ma oggi c'è domani non si sa perciò controllamolo bene fammi il lavoro tommi in mo chiedi a chi ha mangiato ieri sera non si è lamentato nessuno tutti soddisfatti dove devo andare io a chi ha io pensavo mi mandare a fai culo si mamma mia zitta sto camminando a reggio merda c'è Sandrino l'umazzolatore che prepara la mazza sorci i bracciano da là le fettuccine le hanno levate tiè Sandrino oh non ammazzare nessuno che già ieri sera è venuta un'ambulanza un po' come il bis dai va bella zi bella zi bella zi ma perché non c'è là la maglietta mia hai capito mangiamo meglio se te eri comprata bella zi quando si tratta di mani acqua non scherza mai nessuno però te ci hanno lasciato a te da sola sei commossa che gli ho detto a mezza quanto bello di Dio ma io non c'erano con lei c'erano che esercizio tranquilli tanto mi passa non smette non vi preoccupate perché non è abbastanza spingi spingi vai tranquilli tanto mi smette il franzo è riuscito bene tutto a posto tutto a posto è riuscito è riuscito è riuscito grazie 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 fa a piedi la pettina portaci no che ne ha l'acqua basta l'acqua basta 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 poi ci credono pure il bello è quello ci credono pure sono tutte casate guarda guarda tutte casate so guarda quella quella è la peggio guarda guarda ma chi cazzo lo sta a fare il movimento sexy guarda nessuno lo sta a fare nessuno lo sta a fare tu mi fai sangue solo per la parentela a te tanti auguri a te tanti auguri a chiaretta tanti auguri a te volemmo fare una foto e e grazie 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 soffia se c'è scurrezzata fa prima vai scurreggia scurreggia sa fa lui bravo è quel bambino che giocava in un cortile mio vagabondo che sono io vagabondo che non sono altro sono di Tascano no ma la sua mi è rimasto io vagabondo che sono io vagabondo che non sono altro sono in Tascano no ma lassù mi è rimasto io voglio morire di te io voglio vivere ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male voglio morire di te io voglio vivere ma sulla pelle mia io voglio amare e farmi male voglio morire di te mi è rimasto mi è rimasto mi è rimasto mi è rimasto me è rimasto di te di te Oh